Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. In A1 è raccomandata la massima prudenza per la presenza di animali in carreggiata tra Calenzano e il bivio A1 variante in direzione Bologna. In A12 l'area di servizio Magra e Versilia sono chiuse in entrambe le direzioni. L'area Castagnolo è chiusa in direzione Genova. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze per lavoro in corso, rallentamenti in entrambe le direzioni Tabadesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza del viadotto Filinelle nel comune di Barberino-Tavarnelle. A Firenze strada chiusa in via delle Conce per scavo urgente. Chiusura di via del Paradiso fino al 6 maggio per lavori. Chiusa da via Fortini a via San Marcellino. Percorso alternativo via Fortini, via delle Cinque Vie, via Berisario, via Fortini. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze e Comune di Firenze